se volessimo disegnare un quadro per bene raffigurare il momento che stanno passando le lioncelle della polisportiva a bitonto ne dovremmo fare uno con due elementi in bella mostra e che giganteggiano uno si chiama attesa quella di poter ripartire e concludere la stagione che si interrotta sul momento più bello e cioè nella lotta infinita tra le nero-verdi del patron silvalentini e la lepre new cup san michele sei lunghezze avanti e che ha vinto pure la coppa puglia lo stop per il momento è fino al 17 maggio e non si sa se ci andrà oltre tanto da dover alzare la bandiera a scacchi sul campionato segnando il trionfo delle san micheline se così sarà ecco che farà capolino la speranza che porterebbe le bitontine comunque in serie a due tramite la modalità dei ripescaggi sui quali però si dovrà capire bene la modalità e su come sarà la fisionomia della prossima stagione c'è una cosa allora che regna su tutte ed è sempre la solita l'incertezza ancora più acuta e quanto mai incastrata nel dubbio amletico tra spettacolo sport e salute capitale la rossa e compagni ovviamente sono pronti a tutto ma lo diciamo sottovoce quel traguardo prefissato fin dalla scorsa estate lo meriterebbero eppure tanto grazie a tutti